Dopo aver fatto il livello nuova discarica, adesso dobbiamo fare Andy Asteroids. Questa è una gara in seguimento. Quando viene colpito, il boss rallenterà. Il primo ad arrivare in fondo vince, ma se perdi dovrai giocare il livello dello Psy-Crow. Per usare il turbo dovete tenere premuto il tasto X. Ricordatevi di raccogliere le bolle. Quando prendete questo scudo, premete il tasto cerchio per proteggervi dagli asteroidi. E poi prendete l'acceleratore. Ah, vi do un consiglio. Dovete raccogliere tutte le bolle senza abbandonare la partita. Così quando lo fate, guadagnate un trofeo. Questa è la prima parte di Andy Asteroids. Avete visto? Siamo nello spazio, nell'universo. Avete visto quel maledetto corvaccio spaziale? L'abbiamo distanziato. E stiamo arrivando primi al traguardo. Siamo arrivati primi. Abbiamo raggiunto il traguardo per primi e abbiamo vinto la gara. Vi aspetto nel prossimo video con il prossimo livello di Tworm G Mach-D della PS3. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, commentate e potete anche condividerlo il video.